Perchè non è possibile, situazione invivibile, le fighe si lamentano, gli scemi non le scopano, quindi queste escono col caldo e con il freddo, parlano di sesso e si domandano ma quando, uomini virtuali fanno sesso sopra Facebook, poi l'uomo lesso va a letto che è cotto, la tipa sbrocca ma c'ha già il vibratore nel cassetto, a piena carica, bella questa moda questi giorni, il tipo vuol l'America, la tipa i Caraibi, Jamaica in testa, la canna d'erba fresca, un rastagliello piazza nel mezzo della foresta, invece poi si sveglia nel suo letto, con un babbo a fianco, con il piatto marcio, nell'armadio l'intimo bello, usato mezza volta sotto un'altra linea se no fa la muffa. Pirla, stai con un pirla, e non c'è niente da fare, quello accennato ci rimane così. Nuova serata, nuovo problema, la tele è sempre accesa, lei cerca una sveltina, la tipa romai se la gioca al ribasso, il tipo viene in tre secondi, poi ti fissa tipo maschio. Ma come cazzo son finita qua? Si chiede, pensare che era la più figa già dai tempi delle medie, ed ora c'ha le amiche che la sfottano di brutto, indossa per izoma, tanto non le cambia un cazzo, il pizzo del tanga, il tipo non lo nota, nemmeno sempre Carlo lo usa al posto della corda, chissà magari un paio d'ore a rigor mortis, farebbe tutto lei un bel macello tipo Gengis. Can, ma quale can, facciamo un patto, piuttosto di sto babbo stasera lei scopa il gatto. Tu vai pure al miazza, ne scende in piazza, cercare qualcuno che glielo piazza. Pirla, stai con un pirla, 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 stai con un pirla, e non c'è niente da fare con l'accento, ci rimane così. Perché la situazione non evolve, si chiama suona al cellulare il tipo che risponde, tu mandalo a fanculo delle volte, è dura, chi lo sa magari un poco si riprende, non è che gli si chiede il miracolo globale, andrebbe bene anche il minimo sindacale, lui con gli amici che si fa i tornei con la play di FIFA, lei con gli amici che si fa i tornei di figa, cambia di poco ma c'è differenza, ecco il stagliato come fa la tipa a star contenta con te, e non ti lamentare, non venire al bar a parlare. Non ci passi da quella porta con quelle corna, basta ti fai finta di legarti una scarpa, scarpa come te, un babbo nella fila, sei l'antifiga, un ballabiotto, un pirla. Pirla, stai con un pirla, 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 stai con un pirla, 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 stai con un pirla, e non c'è niente da fare con l'accennato cinema. C'è, l'hai visto? Cioè, nel senso lo stai vedendo? Cioè, a me mi sembra che... Cioè, poi fai tu nel senso però... Cioè... O no? No, perché a me... Cioè... Riflesi... Cioè, è un pirla... Cioè... Cioè... Cioè...